In Italia una donna su tre subisce violenza almeno una volta nella vita. Dal 2005 ad oggi 1.377 donne sono state uccise, nell'80% dei casi dal loro compagno. È stato presentato a Palazzo San Giacomo il rapporto annuale sull'attività della rete antiviolenza di Napoli, un sistema di servizi integrati a tutela delle donne in difficoltà. Sono cinque i centri antiviolenza distribuiti sul territorio cittadino, veri e propri presidi di riferimento per molte donne che subiscono maltrattamenti. È difficile riconoscere di subire violenza per una donna, sia perché si vergogna, sia perché non vuole che fuori dalle mura domestiche si venga a sapere, in quanto lei stessa si sente colpevole di aver contribuito a subire violenza, e poi perché la cultura è talmente sessista e maschilista che se un uomo tratta male una donna e la soggetta psicologicamente, la umilia, le priva la possibilità di autodeterminarsi, di prendere decisioni, questo è talmente diffuso e addirittura incorporato nella mentalità delle donne che non lo riconoscono come un fatto violento, addirittura quasi come una cosa naturale, ovvia, nella relazione con il proprio compagno. Dall'analisi dei dati si scopre che la violenza sulle donne è un fenomeno trasversale fra i territori e le classi sociali. I casi di violenza psicologica hanno superato quelli di violenza fisica, mentre un'attenzione speciale meritano i casi in cui i figli, soprattutto se minorenni, assistono alla violenza. Un bambino che credo non avesse almeno dieci anni mi ha avvicinato chiedendomi un numero di telefono cellulare, io in curiosità, perché è una richiesta non tanto insolita, però detta a un bambino non accade tutti i giorni, e lui mi ha detto, sindaco, me lo puoi dare il numero di telefono perché sono dei miei compagni di classe che mi fanno violenza. Gli ho detto, ma perché vuoi il mio? E lui mi ha detto, perché non so a chi rivolgermi, tu sei il sindaco, mi ha visto come il punto di riferimento. Guardate, era vero il caso, poi abbiamo attivato i servizi, il caso era vero, questo ragazzo subiva violenza a scuola, quindi è importante non lasciare le persone fragili, le donne in questo caso, i ragazzi in altri tavoli, soli, perché la gente ha bisogno di punti di riferimento. Ci sono anche ancora tante donne, anche giovani, che si fanno controllare senza reagire il proprio cellulare, che si fanno anche dare uno schiaffo. La motivazione, vabbè, ma una dimostrazione di gelosia vuol dire che mi ama. Cioè, è una strada molto lunga, perché è una strada che deve riguardare la relazione affettiva fra gli uomini e le donne. Non può essere solo una questione delle donne, è una questione di entrambi. E su questo elemento, che deve liberare le donne dall'essere sempre sotto il focus delle vittime, e quindi di essere tutelate, no, le donne non sono né vittime, né vanno tutelate. Tutto al più, va scoperto con loro come liberarsi da una cultura sessista che hanno incorporato. Per gli uomini va rimesso in discussione il ruolo ruolo e anche come si percepiscono nei confronti della propria dimensione affettiva, del proprio desiderio, delle relazioni all'altra. Mettere in discussione il codice del genere, perché è un codice di carattere sociale, significa cominciare a rimettere in discussione la binarietà uomo-donna e quindi a liberarsi dai ruoli.